Finisce sulla tavola sbagliata quella di un fotografo che prontamente l'ha immortala. Parliamo della neoscoperta mozzarella gialla con addirittura venature rosa. Una nuova colorazione che è toccata in sorte ad un fotoreporter della provincia di Fermo. Cristiano Chiodi l'ha subito consegnata al servizio igiene della zona Asur di Fermo perché la faccia analizzare dall'istituto zooprofilattico Marche Umbria. La mozzarella della marca tedesca Landma prodotta in Italia era stata acquistata la scorsa settimana in un supermercato della catena Eurospin a Porto San Giorgio. La scadenza indicata sulla confezione era il 24 settembre. La mia compagna, spiega Chiodi, l'aveva comprata per fare una pizza. Quando l'ha aperta la sorpresa era gialla e dentro rosata. La prima cosa che ha pensato Chiodi è che il formaggio fosse finito sulla tavola sbagliata, quella appunto di un fotografo. Mozzarella della stessa marca commercializzata in Italia dall'Eurospin erano state sequestrate nelle scorse settimane in altre regioni nell'ambito dei controlli sulle mozzarella blu contaminate dal batterio Pseudomonas. Ma altri controlli erano stati compiuti per scovare eventuali ricotte rosse come quelle rinvenute ad Olbia. L'episodio della mozzarella gialla ha messo sul piede di guerra la Coldiretti che ha ribadito come sia necessaria l'etichetta d'origine per tutti i prodotti lattiero caseari, specie in una provincia come il Fermano dove 6 litri di latte su 7 venduti in bottiglia o impiegati per fare formaggi provengono dall'estero. La mozzarella Land è un marchio prodotto dalla società tedesca Milkwerk Jager. L'azienda vende in Italia numerosi tipi di formaggi, alcuni commercializzati con nomi che richiamano il Made in Italy, come Malga Paradiso, Fattorie Torresina e Monteverdi. Per questo è importante tutelare e preservare il vero Made in Italy, anzi il Made in Marche, come sottolinea Lupi, dell'Associazione Allevatori del Piceno. Tipo la razza bovina marchigiana, che è leader a livello nazionale tra i bovini da carne, perché è in grado di produrre una carne di notevoli doti dal punto di vista organolettico. Grazie. 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 Grazie.